FK! Sì! L'ho ucciso! Sì! E vince! Attenzione! È svenuto sulla tastiera! Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono tio e oggi siamo nei server di Bad Lion per un SG. Allora, siamo nella mappa zone 85 revamped, credo, mi sembra, e come avrete già sentito non c'è più rumore di sottofondo. C'è quella specie di fru... che rumore di sottofondo è quella specie di pruscio, diciamo, che a volte disturba, diciamo, disturba molto il video. Per cui adesso rimango un attimo zitto e disattivo... disattivo, sì... annullo... vabbè, lasciamo stare la musichetta di sottofondo e vi faccio vedere che non c'è più il pruscio. Ok ragazzi, come vedete, il pruscio fastidioso, cioè a me dava veramente fastidio, è sparito. Perché voi mi chiederete? Non perché ho cambiato microfono, l'ho appena preso nuovo il microfono, è da qualche giorno, che l'ho preso, ok, qualche giorno, qualche settimana. Non è per il microfono, ma è perché ho scaricato un driver, che è Realtek, non mi dico abdo bene, che praticamente c'è un'impostazione in cui puoi eliminare il rumore in sottofondo nelle registrazioni. E questa è una cosa che mi piace veramente molto. Per cui, ragazzi, da ora in poi, niente... non mi fa entrare. Entra! Ok. Niente più rumore in sottofondo. Per cui, bene, meglio. Allora, io devo trovare una rod via a sta cosa. Devo trovare una rod, schifo, non usa rod. Io la rod. Perché la rod regna? No, non perché la rod regna, ma è utile fare le strafe. Però, ehm, sì. È utile fare le strafe. Allora, prendiamo sta tier 2. Ah, ok. Adesso, vediamo se c'è qualcuno. No. Non c'è nessuno. Dai. Puoi trovare qualcuno? Magari... O qualcuno o qualcosa, dai, almeno. O lì? Allora, qua ci sono due tier 1, non posso crederci che in due tier 1 non trovo una rod. Dai, eh. Lì, queste scale. Vediamo in questa tier 1. Speriamo in una rod. Rod. Eccola qui. La nostra rod. Allora, comunque, ho cambiato. Sì, vabbè, l'ho già detto. E mi piace molto. Comunque, scrivetemi anche nei commenti. Nei commenti. Se volete... Se volete... Se volete qua... Un... Un gameplay, sì. Stavo dicendo, se... Anche Uber, che odia la musichetta... La musichetta, sì. Il rumore vi sottofondo, vi consiglio Realtek. E scrivetemi nei commenti se volete un gameplay apposta. Su come si installa Realtek. Che Realtek. Sì, vabbè. Non mi ricordo bene il nome. Adesso sto qui. Muori. Dai. Lo so che sei morto. Ti manca giusto qualche trecciata. No, invece no. Che palle. Non c'ho sbattato in seguiti. Per di più. Dai, no, no, no. Io odio la gente che boost fanno. Le odio come... Come qualsiasi altra cosa. Un po' proprio... Cioè, non so cos'ho contro i boost fanno. Cioè, forse perché faccio cagare a boost fanno, Allora odio quelli che boost fanno. Credo sia così. Però tu sei morto, appunto. Ok, muori. E adesso siamo fuori. Qui, questo, questo. Stiamo... No, ho buttato la spara. Vabbè, qua. Ok, adesso... Buttiamo via un po' di roba. Che siamo pieni di schifezze. Ok. Quanti siamo? Siamo in 5. Ok, dai, dai, dai. Non sta andando male. Contato che anche siamo in zona 85 di Vamped. Perché non conosco tante ceste. Aspetta, proviamo un po' a... Eccole. Sulla 1. Vediamo com'è messo... Ah, ok. È messo peggio di me. Dai, possiamo ucciderlo. Quante chilo fa? Una. Poco. Tipo, prima è successo che ho fatto un SG in par 72, no? Tipo, c'era un team... Eh... Di full pelle. L'ho ucciso tutte e due con la spanilla. Cioè, non so. Era troppo un abito. Cercavano di blocchettare, però non ci riuscivano. Secondo me stavano blocchettando con la 1.2. Dov'è sto team? Ah, eccolo! È dentro. Come faccio? Entra. Ah, mi sa che si è intrappolato, però. E mi sa che se entro lì, devo aspettare il deathmatch. No, come faccio se non puoi uscire? Vedi, non può uscire. Quanti siamo? Se uccido uno, siamo in quattro start al deathmatch. Per cui sì, facciamo. Oh, oh. Accendino? No. Ok, dai. È morto, è morto. No, invece. Ah, no. Ok, ucciso. Bella! Geppol. Vai, dai, dai, dai. Buono, buono. Possiamo vincere. Vediamo se poi magari... Probabilmente ha già preso tutto. C'è un tipo che sta salendo. È meglio che mi mangio la Geppol, perché se aveva quei mici... Cioè... L'avete visto? Guardatelo, è caduta giù. LOL. Bellissima questa. Vai, adesso abbiamo tutta la vita. Dai, possiamo giocarci a Tontu Team. Team Team, sì, sì. Team. Bella, Team con Tontu. Tontu... Tontu 5000. Dai, non fare l'infame che mi impula dopo che gli ho chiesto Team. Ah, 2v2, ok. Ok, dai, te sei morto. Sì, dai, questo qui è abbastanza ok. Tontu, siamo io contro di te. Vai. AIR, cioè aria. No, mi ha dato fuoco, dai, non voglio perdere. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, me lo sento, eh. Se smetti di prendere fuoco. Oh, fk, sì, l'ho ucciso. Sì, e vince. Attenzione. È svenuto sulla tastiera. Ti aveva mai che giocavano. È svenuto. È morto. Un infarto sulla tastiera. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Iscrivervi se non siete già iscritti. Commentate. E ciao a tutti!